Io adoro in te quell'eteria bellezza che accompagna il conforto dei miei giovani anni, eppure tu sei me. Ideata da un docente di latino e greco siciliano, la notte dei licei in pochi anni è diventata un appuntamento di rilievo nella programmazione delle attività didattiche di centinaia di licei italiani. È una sorta di notte bianca che si svolge in contemporanea in tutto il paese, con l'obiettivo di valorizzare la cultura classica attraverso il lavoro, l'impegno e la genialità degli studenti e dei loro professori. Anche il liceo Francesco De Santis di Salerno ha aderito alla manifestazione con una lunga giornata che ha coinvolto tutte le classi. Musica, testi recitati, proiezioni, spettacoli e rappresentazioni teatrali, e poi stand e prodotti gastronomici a tema, tutto sotto la supervisione degli insegnanti che in questa prima parte di stagione scolastica hanno preparato gli studenti alla notte dei licei. Il De Santis di Salerno è un istituto storico del territorio, centinaia di iscritti, indirizzi differenti, progetti di alternanza scuola-lavoro ed ora anche il liceo scientifico, tutto questo per preparare al mondo del lavoro gli studenti che possono far leva anche sul laboratorio all'avanguardia, biblioteca, palestre ed aree attrezzate. Una scuola insomma che vive tutto il giorno, da mattina a sera, un luogo di studio e d'incontro per centinaia di giovani. Per me è stata una scoperta, come sapete sono da pochi giorni in questa scuola, è stata una scoperta piacevole. Ho notato un grande interesse di tanti, non solo di genitori e di addetti ai lavori, ma anche di curiosi. Segno che questo tipo di scuole tutto sommato propongono un'offerta formativa che al giorno d'oggi è ancora appetibile. Noi siamo abituati a pensare al classico come una scuola tradizionale, invece è una scuola che forse è necessaria al giorno d'oggi in cui si sono persi molti punti di riferimento, anche valoriali. C'è bisogno di una riscoperta, in un certo senso, dell'uomo, delle sue radici, del suo futuro. C'è bisogno di una riscoperta e c'è bisogno di studiarle queste cose. Un classico che comunque negli ultimi anni si sta reinventando con il class plus per quanto riguarda la tipologia principale, l'indirizzo principale, storico del De Sanctis, che però si è aperto anche allo scientifico, anche con potenziamento internazionale e non solo. Sì, le scuole sono in continuo e perenne movimento, guai a offrire sempre staticamente la stessa offerta formativa. Il De Sanctis, grazie alle scelte effettuate in questi anni, è cresciuto moltissimo sotto il profilo quantitativo. C'è appunto questo nuovo indirizzo che è prettamente legato anche al mondo del giornalismo. Diciamo anche i nuovi progetti di alternanza scuola-lavoro vanno in questo senso. E poi comunque ricordava la sua nuova avventura che però non la porterà lontano dal Profagri. Insomma, lei continuerà la sua attività col Profagri reggendo anche il De Sanctis. Sì, sì, il Profagri ovviamente rimane la mia scuola, la scuola in cui in questi anni ho riversato molta passione. Il De Sanctis è un'avventura diciamo provvisoria, almeno per il momento, è un'avventura di reggenza e quindi una situazione anche nuova per me. Ma credo che si completino le due scuole, cioè hanno appunto, ne parlavamo prima, fuori onda due target diversi e quindi ognuna di queste scuole ha la sua specificità.